Exo Rattics, stai cercando un crossover che abbia l'affidabilità delle tedesche? Volkswagen T-Roc, 1.6 di cilindrata, 115 cavalli allestimento style, scopriamolo insieme. Stiamo parlando di un autoveicolo aziendale che ha avuto un unico proprietario che l'ha tenuto in splendide condizioni, ha percorso poco più di 10.000 km ed è certificato e garantito perché come tutte le nostre autovetture deve aver superato il test dei 150 punti di controllo dei nostri automotive expert. Inoltre è ricondizionato sia nella meccanica che nella carrosseria e quindi è assolutamente pari al nuovo. Elegantissimo in questa versione Pure White, alimentazione diesel per un consumo di 4,4 litri ogni 100 km. I cerchi sono in lega da 17 pollici, multirazza bicolor, cromati e grigio chiaro e il battistrada in splendide condizioni. All'altezza delle aspettative è sicuramente anche il bagagliaio su due livelli. Molto ben sagomato con luce alogena di cortesia sulla destra, parte da una capienza di 445 litri e arriva a 1290 litri abbattendo le sedute posteriori frazionabili 60-40. Grazie all'ampio angolo di apertura delle portiere è super agevole accedere all'abitacolo. All'interno troviamo tantissima eleganza, comodità e luminosità grazie all'ampia finestratura e al cielo chiaro. Le sedute sono in tessuto bicolor, bellissima la texture, dotate di attacchi isofix a entrambe le sedute esterne e posteriori. E lo schienale del passeggero centrale diventa un praticissimo bracciolo con doppio portabibite e non manca la botola per un accesso diretto al bagagliaio. Poco più di 10.000 sono i chilometri percorsi e la parte centrale del quadro strumenti è interamente digitale. Bellissima, tecnologica, con dettagli di carattere, essenziale ed intuitiva è la plancia. A partire dal volante ha tre razze dotato di numerosissimi tasti, tra cui il cruise control e il comando vocale. Mentre dal praticissimo display incastonato tra le bocchette della reazione possiamo gestire tutto l'infotainment. A partire dalla radio abbiamo a disposizione i media, possiamo connettere il nostro smartphone, abbiamo accesso alla navigazione, non mancano Apple CarPlay e Android Auto e possiamo gestire tutte le impostazioni di setup della vettura. Inferiormente troviamo il clima che è automatico e bizona, un profondissimo vano portoggetti con doppia presa USB, ingresso da 12V, il cambio è manuale a 6 rapporti, il freno di stazionamento è elettrico, doppio portabibite, un pozzetto sotto il bracciolo centrale. Ancora più ergonomiche, avvolgenti e confortevoli sono le sedute anteriori con sostegno laterale e supporto lombare, sono davvero morbidissime. Inserendo la retro abbiamo poi accesso ai sensori di parcheggio perimetrali per parcheggi no stress. Corri subito sul nostro sito ratiauto.com, riserva con un solo clic la tua auto per 7 giorni con soli 100 euro senza impegno e prenotano a videocall con uno dei nostri sales. Potrai ricevere la tua auto direttamente a casa tua, con il nostro servizio di consegna a domicilio con igienizzazione e garanzia europea garantito in tutta Italia entro 7 giorni lavorativi. Avrai tempo 14 giorni per il recesso e non dimenticare di seguirci su tutti i social. Alla prossima auto!